Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 28 novembre di Globus Television. Giovedì, alta pressione sulla regione e giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime fino a 23 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni. Grazie a tutti.